Aveva voglia di attaccare Rodriguez e ce la fa in questo caso spaccando in due la difesa di Venezia che si fa trovare in preparata 18 a 13 dopo 9 minuti. Panter proprio da Rodriguez che prende velocità, gira l'angolo e si alza con la tripla del contro sul passo. Poi si separa ma non trova l'appoggio al vetro, chiede un contatto che non c'è, 3 secondi, Rodriguez capo aperto, evita gli avversari e la morbidissima esecuzione, va dentro ancora e sulta Rodriguez.